Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di FanoTV, oggi è lunedì 7 settembre 2020, questo è il canale 17, ben ritrovati, iniziamo la giornata come sempre, iniziamo anche la settimana con l'informazione e subito con il santo e poi le previsioni del tempo. Andiamo a vedere il cartello, santi, festo e desiderio, il sole è sorto alle 6.41 e tramonterà alle 19.36, andiamo a vedere il tempo. Sul sito della protezione civile delle Marche come sempre troverete anche voi il grafico con le previsioni dettagliate per tutti i giorni, allora oggi lunedì 7 avremo precipitazioni locali, rovescio temporali pomeridiane nelle zone interne, per la giornata di domani invece 8 di settembre, cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento quelle della notte e in diminuzione invece quelle massime. Tempo che comunque sarà sostanzialmente stabile anche nella parte centrale di questa settimana. Andiamo a vedere subito i giornali. La prima pagina del resto del canino di Pesaro, la fotonotizia e lo stadio torna a vivere, peccato che lo farà per poco, anche perché adesso è già in arrivo il nuovo DPCM che prevede la chiusura degli stadi fino alla fine di settembre, ma comunque c'è stato uno spiraglio grazie alla legge regionale che ha potuto consentire ai tifosi di ritornare per un attimo, anche se distanziati, sugli spalti. Nell'amichevole della visse contro l'ascoli il Benelli promosso al primo esame anticovid, atmosfera surreale, ingressi ipercontrollati, termoscanner per i tifosi, ma ha vinto il calcio. La cronaca dà fuoco all'auto della moglie San Costanzo, arrestato dai carabinieri, un operaio di 50 anni, gesto di vendetta, la donna vuole separarsi. Il virus che non molla in provincia, altri 11 casi positivi, tre giovanissimi stoppati prima del rientro a scuola e poi referendum, i vertici del PD fanese votano no contro dunque la linea di Zingaretti. Rinviata al 2021, Candele a Candelara, ci sono troppi rischi dunque salta questo importante evento natalizio. Delfino invece, siamo allo sport, WL squalificato, si decide sul ricorso. Andiamo a vedere adesso la prima del Corriere Adriatico, edizione di Pesero, turismo, la resistenza degli hotel. Entro fine settimana chiuderà la maggior parte delle strutture, ma 15 alberghi rimarranno aperti. Tra ottobre e dicembre andranno all'asta il Cruiser Wappala e l'International da tempo in degrado. A centro pagina invece, referenti Covid, un altro rebus, scuola, la fatica della ripartenza. E poi nelle ciclovie a Singhiozzo si intravede un po' di luce, si parla sempre di infrastrutture. A Pesero ieri la visita della leader di Fratelli d'Italia Meloni, vincendo nelle Marche faremo la storia. A San Costanzo fuori controllo, da fuoco ad un'auto e tenta la fuga. Ad Apecchio la 600 impazzita devasta una via, coppia miracolata, parleremo e vedremo di un incidente. Allora, questa è la pagina interna, la pagina 5 dell'arresto del Carlino, dove si parla di questo incendio, di quest'auto incendiata per vendetta da parte di un uomo, un uomo operaio incensurato di 50 anni, la vendetta contro la moglie. C'è una separazione in corso, è successo sabato sera, poco dopo le 21. Quest'uomo ha preso la Fiat Grande Punto, intestata la moglie, ha raggiunto velocemente uno spiazzo vicino alla vecchia Fornace, in località Cerasa, e ha dato fuoco al veicolo, ancora non è chiaro con quale innesco, però distruggendolo in buona parte. I servizi sociali seguono la famiglia, la donna avrebbe deciso di separarsi. Il muratore incendia un'auto, scrive il Corriere, dopo la fuga scatta l'arresto. L'autore, un cinquantenne residente a Cerasa, è andato improvvisamente fuori controllo. L'arresto anche perché, ovviamente, soprattutto per aver in qualche modo dato in escandescenza, aggredito, insomma, aggressione al pubblico ufficiale. La storia è una storia complessa, c'è tanta sofferenza dietro a questa vicenda, e dunque ci fermiamo qui, ci limitiamo a questi titoli. Intanto sotto, altri 11 contagiati in provincia, 3 hanno circa 10 anni. È il bollettino del Gores, sono stati bloccati grazie ai tamponi prima del rientro a scuola. Questo è molto importante, invece. Ci sono 11 positivi nella nostra provincia, cioè in provincia di Piesa Urbino, tre sono ragazzini, di età compresa tra i 9 e i 12 anni, e in un caso c'è un cluster, un focolaio, all'interno di una famiglia albanese, residente a Urbino, che è rientrata dal paese d'origine, quindi dall'Albania. In questo caso la Regione Marche prevede l'obbligo per i soggetti che rientrano da quel paese, così come altri, non solo di quarantena, come è prescritto a livello nazionale, ma anche di tampone. E questo è importante, perché il fatto che 3 degli 11 contagiati siano ragazzini in età scolare, scrive Alessandro Mazzanti questa mattina sul giornale, fa capire l'importanza del tampone, perché in questo modo, così come dice Elisabetta Esposto, direttrice del distretto di Pesero, abbiamo bloccato sul nascere dei soggetti che potevano creare un contagio a scuola. Tutti e tre i casi dei minori, i due di Urbino e uno di 12 anni, residente a Fermignano, sono asintomatici. Gli altri casi invece riguardano persone residenti a Macerata Feltria, due sono questi di 19 e 21 anni e uno di Pietrarubbia che ha 20 anni. La pagina invece di Senigallia del resto del cagnolo di questa mattina è sempre dedicata alla cronaca, è un episodio che è avvenuto l'altra sera, lo bloccano davanti alla moglie e gli portano via il prezioso Rolex e caccia due persone che hanno agito con volto coperto, coperto da caschi integrali e con i guanti. La vittima è un imprenditore che ha 60 anni, va a cena con gli amici e poi appunto gli rubano il Rolex. Sono passati alcuni giorni da quando l'uomo è stato aggredito da questi due uomini, entrambi con il volto travisato, che lo hanno immobilizzato. Dopo avergli sfilato l'orologio si sono dati alla fuga. L'uomo aveva trascorso la serata in un locale in via Dantelighieri a Senigallia, insieme alla moglie e altri amici, ma è stato, mentre si stava dirigendo a recuperare l'auto in via Rieti, che si è sentito cinturare e in un primo momento si è messo a sorridere, pensando ad uno scherzo. Poi ha visto il viso terrorizzato della moglie e nemmeno il tempo di realizzare che un uomo con il volto travisato da un casco integrale e le mani coperte da un paio di guanti gli ha sfilato l'orologio che aveva il posto e poi ha capito quello che stava succedendo e a quel punto, insomma, anche lui si è preoccupato. Dopo il furto si sono allontanati di corsa a piedi questi due malviventi e si sono poi messi in sella ad una moto e le indagini sono naturalmente in corso. Allora, adesso parliamo ancora di Covid, ma soprattutto per queste nuove regole che sono in arrivo con il DPCM che sarà valido in tutta Italia fino alla fine del mese di settembre. Allora, innanzitutto discoteche e stadi che resteranno vuoti, poi c'è l'obbligo di tampone e le mascherine nei luoghi chiusi all'esterno dalle 18 alle 6. Quindi sulle mascherine c'è poco da discutere. Attenzione come sempre alle distanze, calcio abbiamo detto, stadi chiusi almeno fino alla fine del mese, la stessa cosa per le discoteche. Vediamo un attimo, visto che si tornerà un po' anche a viaggiare adesso con il ritorno delle scuole, insomma, eccetera, eccetera. Allora, in treno e in aereo il distanziamento di un metro tra i passeggeri posizionati magari a scacchiera, questo è obbligatorio sui treni, mentre per quanto riguarda gli aerei le distanze sono state eliminate e si potranno occupare tutti i posti a sedere. Questo perché negli aerei c'è un costante e particolare riciclo di aria, dunque i passeggeri non sono seduti uno di fronte all'altro e prima di salire a bordo comunque verrà rilevata la temperatura. Questo è il motivo per cui sugli aerei si può stare comunque su tutti i posti seduti. Capienza fino all'80% invece sugli autobus, sui mezzi pubblici e sugli scuolabus. Il limite riguarda i posti a sedere, ma anche chi viaggia in piedi. Per gli scuolabus si è invece stabilito che potranno viaggiare con la capienza massima consentita nel caso in cui la permanenza degli alunni non sia superiore ai 15 minuti. Tutti gli studenti che hanno più di sei anni dovranno indossare la mascherina al momento della salita sul mezzo. La pagina di Fano del Corriere Adriatico. Sanità, viabilità e ambiente e pesca. Sacerdoti in trincea con i cittadini. Quando la fede sposa lo spirito civile dal Vescovo Trasarti a Don Gianni Petrone e l'ultimo caso a Gimarra. Sono quattro, tra cui anche il Vescovo, i presuli che in qualche modo hanno combattuto a fianco dei residenti. Don Marco Polverari, andando in senso orario, lo vedete qui, Don Marco Polverari, poi il Vescovo Trasarti, sotto Don Gianni Petrone e Don Pier Giorgio Giorgini. Murali di 114 metri, questa è la notizia di taglio basso sulla pagina di Fano del Corriere, rievoca la battaglia del Metauro. Quasi completato la fresco di Natale Patrizia Grà, sulla strada della Cerbara, siamo a terre roveresche. Resistono, e andiamo a Pesaro, 15 alberghi. La caccia al turista deve partire però adesso, dice il presidente di APA Fabrizio Oliva. La prossima settimana chiuderà la maggior parte delle strutture. Serve, dice Oliva, un 2021 con eventi di richiamo. Sono 10 a Pesaro gli alberghi stagionali che hanno chiuso nel primo fine settimana di settembre. Dal 13 invece chiusi 35 hotel, ne resteranno aperti praticamente 15, tra quelli che sono aperti tutto l'anno, e qualche stagionale che ha deciso un po' di proseguire, di prolungare. Molti degli eventi previsti per l'autunno-inverno sono stati già annullati, come abbiamo detto, Candela e Candelara. Altri raduni e convention sono stati rinviati a gennaio del 2021. Quindi capite che quando non viene gente da fuori in città che ha bisogno di dormire a Pesaro, gli alberghi servono a poco. Sconti e spiagge attrezzate invece i camping trovano e provano, anzi ad allungare un po' la stagione. A Sottomonte si va avanti, c'è chi resiste anche per tutto ottobre, ma come al solito molto dipende anche dal tempo. Abbiamo avuto delle annate, delle stagioni dove ottobre era ancora come fosse i primi di settembre, quindi si poteva andare al mare tranquillamente, magari nel fine settimana. Domani il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, sarà nelle Marche in particolare, anzi non in particolare, sarà a Loreto, nella Santa Casa di Loreto. Anche noi trasmetteremo l'evento in diretta su Fano TV. Questa sera c'è anche il Rosario a partire dalle ore 21, quindi avremo una edizione ridotta del nostro telegiornale proprio per lasciare spazio al Rosario di questa sera. Una grande festa dunque a Loreto, ci attesa nella città mariana per l'arrivo del Presidente della Repubblica che accenderà la lampada della pace. Però attenzione perché gli ingressi sono blindati. La città mariana è dunque un tripudio di luminarie colorate e di bandiere tricolori per onorare la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella che domani sarà in visita al Santuario Pontificio della Santa Casa. L'ingresso dell'arco di Porta Romana sarà aperto dalle 9 del mattino fino alle 10.30 per i fedeli che vogliono assistere alla funzione da Piazza della Madonna con passaggio da Corso Boccalini. L'arrivo del Presidente è previsto alle 11.20, dieci minuti prima dell'inizio della Santa Messa in Basilica. Al termine, a mezzogiorno e un quarto, il Presidente accenderà la lampada nel segno della pace e della solidarietà universale, sempre all'interno del Santuario. Mattarella uscirà sul Segrato alle 12.35 dove avverrà la preghiera dell'Angelus e ci sarà anche l'affascinante sorvolo dei veicoli dell'aeronautica militare. Poi più o meno intorno alle 13 il Presidente andrà via da Loreto, presumo che se ne tornerà comunque a Roma. Ripeto, tutto questo comunque domani per chi abita nelle Marche sarà visibile sul digitale terrestre, sul canale 17 di Fano TV e sarà trasmesso in diretto oppure anche in streaming sui nostri canali. Giorgia Meloni invece, la politica, siamo in corsa, siamo addirittura d'arrivo, mancano pochi giorni e si andrà a votare per eleggere il nuovo Consiglio regionale. E il Presidente Meloni, Giorgia Meloni, dice riscriveremo il piano sanitario. C'è stato un tour della leader di Fratelli d'Italia nella giornata di ieri. Lei dice passeremo dagli ospedali unici alla sanità diffusa e non ci saranno più cittadini di serie B. Ha fatto tappa alla Galleria della Guinza, la grande incompiuta, poi all'ospedale di Fossombrone dove ha promesso che in caso di vittoria del centro-destra alle regionali sarà riscritto appunto il piano sanitario. Noi vogliamo riscriverlo con gli operatori della sanità e con i sindaci che sono stati esclusi da Ceriscioli e vogliamo passare dagli ospedali unici ad una sanità diffusa sul territorio. Infine Meloni si è fermata a Pesaro, la palla di pomodoro. Il nostro obiettivo è vincere in tutte le regioni al voto e non lo considero un obiettivo distante. Le parole sulla sanità sono state accolte con soddisfazione anche da Francesco Baldelli, candidato al Consiglio regionale, che sul tema degli ospedali si è battuto a lungo. Solo disastri tra guinza e ospedale, scrive invece il Corriere Adriatico. Vincere nelle Marche farà la storia. La Meloni a Pesaro per sostenere i candidati di Fratelli d'Italia. Prima i flash mob a Mercatello e poi a Fossombrone. Sul referendum invece, e qui siamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino, il PD fanese va un po' per conto suo. Bacchiocchi, il segretario cittadino, dice io voto no al taglio dei parlamentari contro la linea Zingaretti e se il governo cadrà vorrà dire che ne faranno un altro. No ai ricatti, dice ancora Bacchiocchi, è solo un contentino per la pancia dell'elettorato grillino e noi non ci stiamo. Leggevo qualche giorno fa, insomma il taglio di questi parlamentari alla fine riduce le spese di appena il 5%, quindi non sarebbe neanche la fine del mondo. Auto impazzita, questa è la pagina di Urbino, coppia miracolata, schianto alle 6 di mattina da Pecchio, la Fiat 600 di due anziani torinesi ha devastato via dell'Appennino. Il marito al volante ha centrato una colonnina di pietra, una di metano e un palo e poi anche un'auto. Vedete la fotografia che dice insomma un po' come sono, fa vedere come sono andate le cose. Entrambi per fortuna sono usciti in columi, al volante c'era il marito, forse ha avuto un colpo di sonno, non si sa. Era appena uscito dal paese, da Pecchio in direzione di città di Castello dopo una curva, quando la strada disegna un breve lettirigno, forse un colpo di sonno, insomma ha perso il controllo di questa Fiat 600 e come abbiamo visto e detto ha fatto praticamente piazza pulita. Andiamo sull'altra pagina invece del Corriere Adriatico, da Senigallia, agguato di due banditi in via Rieti, imprenditore rapinato del Rolex, così come il resto del Carlino, anche il Corriere si occupa di questa notizia di cronaca. E poi a Barbara le bandierine per il ritorno di Don Paolo, grande festa, si è insediato il parroco che era stato alla pace. Oggi ci sono gli insetti sportivi, come ogni lunedì. Nel Carlino si parla anche della riepertura, ma anche se per poco, come abbiamo visto, dello Stadio Benelli, uno Stadio Benelli surreale, ma comunque promosso. Spalti rianimati dopo sette mesi e la curva bella solo sul seggiolino. La Prato ha marcato la differenza tra era pre e post-Covid. Bosco Presidente dice bello questo pubblico, peccato che da qui al 30 di settembre non lo rivedremo, perché come abbiamo detto, appunto, il DPCM ha già stabilito che verranno richiusi tutti gli stadi, così come le discoteche. Per il pubblico della Vispesero si tratterebbe dunque di perdere la prima di campionato che è prevista per il 27 di settembre. Barbuti, pilastro, granata, campionato difficile, è uno degli uomini simbolo dell'alma. Qui parliamo del Fano. Col Fano dice mi sono rilanciato perché sapevo delle mie potenzialità e alla fine ho fatto un torneo importante. Sul futuro, dice, la città e i tifosi hanno bisogno di non soffrire ogni anno ma di puntare a qualcosa di importante. Se andiamo a vedere invece l'altra pagina del Carlino, Vis, prova generale ok, c'è struttura e sostanza. Vispesero che ha giocato una partita contro l'Ascoli, è finita 1-1. Nel primo tempo i biancorossi confezionano giocate da applausi. Bene, anche la ripresa è una rosa che dunque promette bene. Dagli spogliatoi, Bosco dice buona squadra, sono soddisfatto. Stramaccioni è stata una grande sorpresa, mi è piaciuto. Galderisi sta diventando, dice, un gruppo vero. L'ultima pagina della rassegna è per il basket, la VL, senso del gruppo, i primi segnali di carattere, compattezza e spirito di appartenenza. Buone le impressioni iniziali al di là della sconfitta. Quello visto con Sassari è un organico dunque che piace, Stefano Cioppi dice avanti così, in questo momento ci guardiamo dentro. Mentre l'analisi tecnica da parte dell'allenatore, il coach Repegia, che dice la squadra c'è, manca solo un altro pivot, insomma, il livello è alto, ma per un ulteriore salto di qualità c'è qualche piccolo dettaglio da sistemare, soprattutto sotto il tabellone. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. L'informazione però torna questa sera su Fano TV alle 20 e 30 e subito dopo, vi ricordo, ci sarà Missione Salute e poi dopo Missione Salute in diretta dalla Santa Casa di Loreto il Santo Rosario in preparazione a quella che è la visita di domani come abbiamo visto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito,